Ragazzi, allora oggi registriamo la modalità del pazzo in questa mampa bellissima che abbiamo noi qua Sì, esatto Perché, allora, io ora sono il pazzo, quindi tu Gabri, prima di tutto E io sono con l'armatura da povero No, devi toglierti l'armatura immediatamente perché non so perché hai l'armatura Ah, pensavo che io dovevo mettere questa Ma vai, ma ti ho mandato all'altra parte del mondo Eh, quindi ho più possibilità per scappare, anche se, oddio, sono morto Sì, però sei deficiente, no, allora non vale, cioè non vale che sei morto subito Cioè, nel senso, me lo devo gustare un attimo quest'uccisione Eh, lo so, lo so Vieni qua! Ma come vengo qua? Ti devo uccidere! No, cioè, oh, ah giusto, aspetta un attimo che io dovevo usare questo bastone, sì, vabbè Ma scusa, ma hai messo 20 di sharpness? Eh sì, ho messo 20 di sharpness, me l'avevi detto te Vabbè, ma nel senso, Gabri, no, ho detto 20 di coso, là, di knockback, ma non di sharpness Cioè, nel senso, sharpness è davvero troppo, sennò i due colpi mi ammazzi Eh no, infatti, devo prendere il comando Eh, allora prendi il comando! Sì, sì, arriva, 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 arriva No, allora scherzavo, se lo devi prendere da internet non lo fare, per carità No, ce l'ho qui, ce l'ho qui, ce l'ho qui Allora, sharpness, quanto? Allora, una sciarpa di, vabbè, facciamo 10, dai, bravo Dimmi quanto ti toglie, quanto ti toglie Tre cuori Ok, perfetto, va bene, va bene, vanno bene tre cuori Vanno bene tre cuori Va bene, va bene, va bene Tu, mi raccomando, usa quello che io, allora, usiamo tutti e due sharpness, quello là, da tre Insomma, da 10, come caspita era Va bene, va bene Ah, vai via, schifosa No, 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 devi dire Ah! Ah! Idiota mi hai ammazzato No, non vale Cioè, nel senso Come ti ho ammazzato? No, dovevi usare Allora, prima di tutto ti devi mettere l'armatura Secondo Ma come mi devo mettere? Prima la dovevo levare Eh, perché sei tu il pazzo Adesso, no? Sono io pazzo? Adesso sei tu il pazzo, ma ti devi mettere questa Ah, non l'avevo capito Eh, sì, perché ti avevo ammazzato 30 volte Non lo so io Ah, eh, va bene, va bene, devo prendere Eccolo Mannaggia te Allora, vai Aspetta, devo buttare quello da 20 Ah, ma non ti preoccupare che tu mi scappa No, 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 non vale, non vale Come non vale? Tu non vali Tu non vali perché dici non vale Ah, ma ciao Oddio Ti ho ammazzato proprio dall'altra parte del mondo, Gabrile No, 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 no Gabrile Devo ammazzarti Oh, madonna mia, è di nuovo pazzo, ragazzo, aiuto Eh, beh No, figlio di schifoso Eh, dai, però sei inquietante così Gabrile, no, mi hai murato Eh, eh, eh Vai a quel paese schifoso Non ti permettere proprio Perché se ti permetti di fare una cosa del genere No, 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 devo vincere Io Ah, però comunque ci dovrebbero essere dei minuti di conteggio Erano 4 minuti? Esattamente Due, forse due Vai, vai, vai No, allora Perché non vai il coso? Ma scusa Come non va? Mannaggia, adesso ti ammazzo Basta, ti ammazzo No, 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 no No, 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 no Ciao Devo vincere Io No, 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 che pazzo Ragazzi, sentitene, è pazzo Chi ha vinto Chi ha vinto Dunis, ovviamente Cioè, nel senso No, 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 no Ho vinto io Ragazzi, per curarlo dalla sua pazzia Dovete fare sì Che dovete scrivere tutti quanti nei commenti Che Dunis ha vinto Proprio perché non Cioè, non può essere così arrogante Cioè, Gabri, assolutamente No, 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 no No, infatti adesso sarò io il pazzo Infatti metterò l'armatura Ma, aspetta un attimo Scappo, scappo Ti prendo, schifoso No, 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 scappo Vieni qua Non ti ricordo La cosa che farà più paura Che ti farà più paura È che non ti riconoscerò nessuna vittoria No, 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 no Non vieni qua, schifoso Vai a morire No, 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 no No, non vale Non vale Stavo scappando Ma poi perché sono sempre qui sotto Ah, no, non lo so Io avevo messo che Chi moriva Spawnava sopra Eh, infatti Allora, facciamo di nuovo Il pazzo Nel senso, Gabri Se no Sono io? No, no, no Sono io di nuovo Perché se no Allora Eh, no, infatti, infatti Ah, ok Devo scappare Se no tu mi butti giù dall'altra parte Vieni No, no, no Vengo io Vengo io Mannaggia Ti prendo Ti prendo Ti prendo Ti prendo No, 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 no Non vale Come non vale No, metti Sad world Ma cosa fai Ma vai a quel paese Grazie, grazie Sad world Sad world Spawn Aspetta che lo faccio io Perché finché lo fai tu Word Anche word Word Ragazzi sto Oh, stai fermo Stai fermo Non funziona lo stick Perché sei stupido Perché sei tu Ah, è vero Ho usato l'altro No Che cattivo, Gabri Ho avuto la mia rivincita Eh, sì Sei morto io No, sono caduto sull'acqua Che schifo Sono caduto sull'acqua No, ragazzi Questa cosa non va bene Però aspetta un attimo Che stiamo facendo troppo casino Siamo già Solo in due Stiamo già facendo casino Allora Fermo Praticamente adesso Vieni immediatamente qui Tippati da me Arrivo, arrivo Ok, perfetto Poi Il pazzo sei tu adesso Giusto? Yey Eh sì, credo di sì Eh perché Mi stavo già scordando Io me ne vado No, 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 no Non vale Come non vale? Non vale, non vale Allora, prima di tutto Vattene via Come ti permetti No, 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 no Finché non mi ucciderai Il pazzo è morto Il pazzo, eh no Finché non mi ucciderai Sarai sempre il pazzo Sarai sempre il pazzo Eh no, no, no È però per due minuti Credo Tieni tu il conto dei due minuti Perché io non c'ho voglia È come faccio Metti il timer in parte a te Gabri Perché c'è due monitor È come faccio Vai via, vai via Schifoso Devi andartene a quel paese No Ragazzi è così bello fare il pazzo del pazzo Nel senso io non dovrei essere il pazzo Vorrei essere quello che Però insomma Io sto facendo Gabri 20 volt Però questo stick con 20 sharpness è veramente potentissimo No, è bellissimo Quello con knockback Quello con knockback Sì, sì, sì Comunque il timer è partito ora Ok Ah, no, no, no Non vale, non vale Sì, sì Allora devi farlo partire mezz'ora fa Quindi è già passato un minuto È come fatto, non sapevo È già passato un minuto Ragazzi, ragazzi Dobbiamo cercare il coso Dobbiamo cercare il coso Allora dobbiamo Forza, forza Ma mi senti Gabri? Gabri ma Nel senso ci sei pronto? Ehi, ti sei mutato Ah davvero? Ma che stupido che sono stato No, aspetta un attimo Perché io sono un attimo qua impegnato a fare una cosa Ma vai a quel paese Tu e tu Non ti permettere Non ti permettere Mica No, no, no Dai, ma ti puoi l'acqua No, come? Ma sei mo' Stupido Sei stato proprio stupido Anche perché te lo No, no, no Se ti tipi non vale Se ti tipi non vale E come faccio? Se ti tipi non vale Se ti tipi No, no, no No, no, no Non hai vinto Sei morto Sei morto Sei morto 30 volte Non hai vinto Sei stato stupido E fai schifo come pazzo Oltre che come persona No, scherzo Grazie Che cattivo Che cattivo Che sono stato Ah, ti tipi da me Bene Comunque questa ciata è enorme Quindi c'è Comunque sei tu il pazzo Dennis Sì, sono io Schifoso Vieni in alto Capisco Aspetta, aspetta Che devo prendere lo stick giusto Ok, ok Ragazzi Volevo fare una cosa prima Comunque no Adesso non posso più Eh, sì Gabriele Allora Ma di nuovo Muori Schifoso Ma dai Ma sei già morto Non vale Ma come non va Pronto? Hello, hello, hello Eh, sì, sì, sì Ma dai, vabbè Allora ti lascio un po' di tempo Dai, forza Va bene Abbiamo il timer ora Ok Ok, ok Eccolo Il timer Ma dove sei andato? Ah, giusto Devi scappare No Schifoso No, no, no No, no Non vale tiparsi Ma chi si tipa? Ma chi si? Io mica mi chiamo Gabriles Io non mi chiamo Gabriles Tu No, no, no Sei Gabriles Fai schifo Fai schifo Fai schifo Ah, grazie Molto gentile No Me lo segno sull'agenda adesso Gabriles Il 29 dicembre del 2020 Ha detto che faccio schifo No, no, no Non lo farei mai Per 30 volte me l'ha detto Quindi io questo me lo ricorderò per sempre Gabri Fino alla fine dei tempi No, no, no Che non devi ricordare Tu Non sarai protetto da nessuno Dunis No, no, io sono protettissimo Ucciderà il tuo sedere Grasso Perché No, no, no Deve vivere Il tuo sedere No, assolutamente no Il tuo sedere grasso No E deve restare Grasso come Dove sei finito? Eh, eh, eh 55 secondi Sai che non vale ciò che stai facendo Vero? Cioè? Ciò che stai facendo Che prima mi hai ammazzato Poi hai attivato il timer Poi mi hai buttato giù Poi questa cosa è illegale Al 120 No, 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 no 20 Non è per niente illegale Dove sei? Schifoso dimmi La furia di Dunis Si abbatterà sulla tua testa Se non lo dirà immediatamente Però tanto tranquillo Che adesso Dunis arriva Vai a quel paese Non potrai mai Non potrai mai Vieni qua! No, no, vivrò Non puoi vivere Schifoso No, no, no Mancavano 23 secondi Invece sei morto Invece è stata No, non vale È stato questo Non vale Sì, è stata È raggiunta la fine della tua ora Ed è finita No, no, no La mia ora è sempre Esiste per sempre Ma vai a quel paese Allora fermo! Schifoso Devi fare tu il pazzo adesso Eh, va bene Va bene Devo prendere lo stick giusto Eh, qual è lo stick giusto? Quello di Gabrile Eh, ti ho mandato Dall'altra parte del mondo Dai! Che schifo! Eh, per forza Comunque adesso gli devo scappare Assolutamente No, no Viva! Mi hai dato Come si dice Più tempo Cioè in realtà Attento se hai dato più tempo Eh, infatti Cosa stavi dicendo Mi hai dato più tempo No, no, vabbè Comunque ragazzi A me piacciono troppo Le serie roleplay Hai attivato il timer, vero? Sì, eh no Ecco adesso sì Eh, scala Un minuto circa Quindi un minuto E finisce ovviamente Perché Prima come punizione Secondo perché No Sarà passata almeno un minuto Sì, assolutamente No, 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 no Non vale Inoltre Vi stavo dicendo ragazzi Una cosa più importante di questa Che mi piacciono molto Le serie roleplay E mi piacerebbe Portarvene altre Sul canale Cioè nel senso tipo Infatti stiamo già Lavorando ad una nuova serie roleplay Che è la vita da ricchi Cioè Non devo dirlo questo È uno spoiler Esatto, uno spoiler Vabbè dai Tanto Allora Te ne vai via Grazie No, 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 no Non puoi fare ciò che stai facendo Tu sei il legato Cioè? Cioè Questa cosa qua Che mi sei per uccidere Assolutamente no Mi manca No, no Mi manca molto poco Devo, come si dice Non devi vivere Io devo vivere E devo ammazzare No, ma schifoso Ma è via Ma è via Eh Hai perso Mancavano 5 secondi Hai perso Cosa? Sì Per 5 secondi Ma perché sono di nuovo spawnato per terra? Ma dai Ma basta Non lo so Io sono nella casa qui Vattene via Cioè È la tua casa È mia? Come ti permetti di dire una cosa così Trucitamente schifosa? Con la terra poi dentro Aspettami Devo mettere l'armatura L'armatura Eh certo Ah, devo avviare il tempo Ok, avviato Ok, no Perché tu sei già distante Vabbè, allora Ti capisco L'hai avviato Sì, sì, sì Sì, sì No, no Vieni qua Caro Gabriele No, no Io viverò Gabriele 06 Sai che non è così Mai e poi mai sarà così Lo sai bene Lo senti che è così Lo senti dentro di te C'è quella sensazione che te lo dice No, no, no E succederà proprio così Infatti Lo senti sempre di più Ogni secondo che passa Cosa? Ti sto ipnotizzando Cosa? Ah, adesso Morirai Oh, creatura schifosa No, no, io viverò Infatti è successo Proprio come ho detto Che schifo Che schifo Che schifo Però sai cosa posso fare Per te adesso? Cos'è? Ti posso Ma dai che schifo Gabriele Non pensare Dai Cosa stai facendo Idiota schifoso Vieni qua Madonna Mi sei morto davanti Allora, vieni Tipati da me Tipati da me Perché sono qua Va bene, va bene, va bene Io ti voglio fare un cadeau Un regalo Un regalo Un regalo Guarda Ti do Grazie Grazie mille Dennis Hai visto? Io sono stato tanto gentile Perché praticamente Mi è dispiaciuto Ucciderti Pure dicendoti Quelle cose Davvero terribili Però Posso Posso per favore Dunis Ti puoi evitare Di impappinarti Ogni tre secondi Che parli Mannaggia Ti hai Tuoi scrofaggini Perché Dunis Allora, quando c'è da dire Anche per me Ragazzi Lo dico assolutamente Perché è una cosa Assolutamente da fare Gabri tocca a te Ovviamente Quindi non fartelo Sono io il pazzo Non fartelo ripetere Schifoso Devo prendere lo stick giusto E stai sveglio Stai sveglio Sì 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 Sono bellissimo Non è vero Non ti sento così tanto sveglio No no Io sono sveglio Ah ma sei dietro di me Hai preso il timer vero? Hai messo? Gabri io ti faccio fuori Un giorno di vesti Ok avviato avviato Un altro minuto di penitenza No 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 Non vale Non vale Non vale Non vale Chi è che dice che non vale? È schifoso Solo Dunis può dirlo Brutto Bastiano Per non dire qualcos'altro Brutta Magione Grassa Cosa? Ah io sono una magione Sì Sei una magione Schifoso Eh Mancavano 33 secondi No non è che mi devi dire tutte le volte Quando quanto manca Non mi interessa È tanto 33 secondi E infatti si capisce qua che era tanto Ma scusa Mi spieghi perché ogni volta dobbiamo spugnare Ognuno in buoni Infatti Cioè non è normale come cosa comunque No esatto Boh Tocca a me ovviamente fare il pazzo Fare il pazzo comunque è la modalità più bella Vieni qua No cioè sì 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 Schifoso che non si muove Guardate Dove sei Denis? Se dico vieni qua vuol dire tippati comunque Giusto per farti capire una cosa Ah è vero è vero è vero Non so come tu la possa interpretare questa cosa Cosa hai fatto? Aspetta un attimo Poi devi attivare il timer Non so ricordate di nuovo È vero Dai perché ragazzi perché? No mi hai levato metà vita Ti togli aspetta Ma si sta suicidando da solo Esatto Ma se mi suicido vale lo stesso? Ovviamente sì No no non vale Non vale? No aspetta No però se tu suicidi apposta per vincere sì No vabbè no no Allora vale se ti suicidi apposta per vincere Guarda che me ne accorgo No vabbè non mi suicido apposta Cioè Se muoio per sbaglio non vale Cioè No comunque mi hai appena fatto notare una cosa che non sapevo Gabri Cosa? Sei stato proprio stupidino Comunque io sono dietro di te No no Forse è arrivato Ma io ti detesto un po' Un pochino tanto Oh perché stiamo parlando bassi scusa? Eh infatti perché Cioè io sto parlando normale Ah normale? Più o meno Speriamo di sì Gabri perché Non stavo facendo attenzione a questa cosa Però se io ti sento nel video Dopo sai come va a finire 30 minuti di audio su whatsapp dove ti sgrido No 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 parlo bene Parlo bene 30 minuti di audio su whatsapp dove ti sgrido come è già successo una volta Eh sì sì ho notato Ho notato Allora quindi se vuoi evitare questi 30 minuti No 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 di nuovo qui Ah ti sei ingabiettato schifo cosa ho detto Gabri stai fermo mannaggia Se non stai fermo Di nuovo qui dentro Allora se non stai fermo Se non vieni qua immediatamente io ti faccio fuori Perché sei un mannaggia a te No 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 Io guarda che non gioco mai più con te Gabri Non gioco mai più alle modalità Perché sei antisportivo e sei noioso No E poi ti concentri sul giocare e non sul parlare Oh Ti svegli Scusa 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 Oh perfetto Allora adesso Io non ho voglia di tipparmi Quindi sarà il caso che tu Eh infatti ti voglio tipparmi Uccidiamoci kill Però torniamo qua mi sa No dai ti prego non mi dire No no siamo spawnati Ah no meno male dai Vedi con lo slash kill si risolve tutto Allora tocca a te fare il pazzo Gabri No io sono io Meno male meno male Però dobbiamo fare Sono nato appena il timer Cos'è Si aveva preso un colpo Vedete ragazzi cosa vuole dire Per amici del genere Allora ultimo turno eh Panca pochissimo No come Avvio avvio Io scappo Scappo ragazzuoli No 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 Vai a quel paese schifoso Non ti permette Oh però stiamo facendo sempre Allora fermo 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 Sì sì sono fermissimo Stiamo facendo sempre Gli stessi tragitti Non va bene come cosa Quindi vai Devi devi Oh devi andare Scusa se Se tu vieni qua Come caspita No 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 Cosa sta succedendo No Che schifo Allora Scusa un attimo Scusa un attimo Aspetta un attimo Perché Donny sa da fare una cosa Giusto Capisco Capisco Niente Sì 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 Tu non ti preoccupare Non ti Cosa sta succedendo Per caso Bella domanda Gabri Non sai cosa sta succedendo Cosa No 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 Non sai assolutamente Quello che sta succedendo Schifoso Scappo 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 Se scappi è la tua ora Sono vivo io È la tua ora Ma dico No No È la tua ora In tutti i sensi Gabri Ormai è la fine No come faccio io di qui Ormai è la fine Ho creatura schifosa Non ti permette Allora Direi che la tua ora è giunta Se ti vedo Minimamente Fare qualcosa Che non dovresti fare Cioè 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 Chissà No 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 Chissà Ste bombe Tienettiose Aha Quindi cosa vorresti fare No no devo vivere Non lo sente io No Mori immediatamente Mori schifoso No 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 Mannaggia Io ragazzi È come un gatto in gabbia Ah 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 Sono riuscito a scappare Allora Slash tp Gabrile S06 Comunque sono impediti due minuti Slash tp No 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 Aspetta che cosa sto facendo Slash ban Perché non posso Perché non posso Perché questo Eh no non si può Sai dito tu Non te l'ho chiesto a te Te l'ho chiesto a te Io ti odio Basta non siamo più amici No 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 Non ti voglio più Esci 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 Io fai il registro da solo con i tunisiani Bene Ragazzi non ci sarà mai più un Gabri in questo mondo Anche perché Non ti farei Madonna questa mappa Io la spacco tutta quanta Perché Fa parte Gabri Fa parte Gabri Ok È come uno di quei amici tossici Che non li voglio mai più vedere Dai Gabri Ti perdono Sì sì Meno male Meno male Allora niente Comunque Ragazzi Io direi che Ovviamente abbiamo finito Abbiamo finito Cioè nel senso non È stato È bello È stato molto bella questa modalità In questa mappa È durato pochissimo No è durato Sui 20 minuti comunque Ah Quindi scriveteci Mettete tante belle emoji Qual è la vostra emoji preferita Mettete nei commenti Perché secondo me Sono belle le emoji Cioè nel senso Sì esatto Alcuni le snobbano Ma secondo me Sono belle Sono molto belle le emoji E quindi niente Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao